Il regno di Dio è offerto a tutti, è dono, è grazia, ma non è messo a disposizione su un piatto d'argento. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, commentando il Vangelo del giorno, nel quale si parla del tesoro nascosto e della perla preziosa che spingono il contadino e il mercante a vendere tutto. Pertanto, evidenziato il Pontefice, queste similitudini mettono in evidenza due caratteristiche, la ricerca e il sacrificio. È un cercare, un camminare, un darsi da fare per arrivare al bene prezioso che fa bruciare il cuore per giungere a Gesù, il tesoro nascosto, la perla di grande valore, la scoperta fondamentale che può dare una svolta decisiva alla nostra vita, riempiendola di significato. Ma, ha evidenziato Francesco, non mancano i distacchi, le rinunce e i sacrifici, perché non bisogna lasciare sterile la scoperta e invece sacrificare ad essa ogni cosa. Non si tratta di disprezzare il resto, aggiunto, ma di subordinarlo a Gesù. La sua gioia è la gioia evangelica dei malati guariti, dei peccatori perdonati, del ladrone a cui si apre la porta del Paradiso. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. È la gioia di ognuno di noi quando scopriamo la vicinanza e la presenza consolante di Gesù nella nostra vita. Una presenza che trasforma il cuore e ci apre alle necessità e all'accoglienza dei fratelli, specialmente quelli più deboli.